Eccoci, buonasera a tutti, benvenuti o bentornati sulla pagina Facebook Lezioni di Storia La Terza per questo appuntamento della nostra rubrica versus la storia a duello che insomma ripropone in chiave giocosa scontri tra personaggi in realtà storiche che hanno animato i nostri dibattiti già scolastici che per la puntata di oggi addirittura entra nel campanilismo perché siamo appunto in presenza di due autori, la terza che insomma impersonificano l'uno Venezia, Alessandro Marzomagno e l'altro Antonio Musarra, Genova. La puntata appunto di oggi riguarda proprio lo scontro tra queste due città marinare, introduco i relatori e poi spiego velocemente le regole di questo gioco. Come dicevo da un lato abbiamo Alessandro Marzomagno per Venezia, veneziano proprio di nascita ma tende a sottolineare Melanè solo per lavoro, laureato appunto in storia proprio a Venezia, autore di libri di ambito storico, tra cui ricordo una recentissima uscita, la terza che ho anche qui accanto, Venezia, una storia di mare e di terra uscita proprio pochissime settimane fa e che comprende al suo interno anche proprio un capitolo sullo scontro con Genova che ho ovviamente letto per prepararmi a questa puntata. E dall'altra parte abbiamo invece Antonio Musarra, lui genovese di nascita, ricercatore di storia medievale all'Università Sapienza di Roma e si occupa appunto di storia medievale, storia marittima e navale del Medioevo. Il ricordo appunto, anche lui è un autore, la terza, una sua pubblicazione del 2020 incentrata proprio sullo scontro tra le due città marinare, il Grifo e il Leone, Genova e Venezia in lotta per il Mediterraneo. Prima di iniziare lo scontro ricordo brevemente le regole, sarà il pubblico, sarete voi a decidere insomma quale città vincerà questo scontro, basterà scrivere fra i commenti adesso, prima che inizi il dibattito, Genova o Venezia per iniziare a votare, verrà dato lo stop fra i commenti e poi alla fine del dibattito fra i due relatori si potrà votare di nuovo, vedremo se qualcuno avrà cambiato idea. Anticipo brevemente le tre tematiche dei tre round, ci concentreremo prima sulla questione flotta, commerci e poi arte, quindi non rubo altro tempo ai relatori e passo subito la parola al, magari do diciamo la prima parola proprio all'esterno Marzomagno per Venezia, apriamo il primo round e concentriamoci quindi prima sulla flotta. Bene, bene, grazie. Intanto vedo che c'è già un voto per Genova, veneziani votate, due Genova! Non vorremmo mica dopo Chioggia 1380 però meno male con Venezia. Bene, allora. Lo schermo è rosso blu, eh? Lo schermo è rosso blu, insomma. È vero, questa è una preferenza. 1893, prima squadra d'Italia, Genoa Football Club e già ho guadagnato punto. Tra l'altro come qualcuno ha malignato l'anno prossimo giocheremo tutti e due in B, ma insomma lasciamo perdere. No, tra l'altro devo dire Alessia che il capitolo che io ho scritto nel mio libro su la lotta tra Venezia e Genova è in buona parte, è stato scritto saccheggiando il libro Il Grifo e il Leone di Antonio Busarra. No, perché, eccolo lì, perché ovviamente devo molto a quanto lui ha scritto e anche alle molte cose nuove soprattutto che ha introdotto. Vabbè, dunque, cominciamo con la flotta e quindi la potenza navale e io vorrei anche dire il luogo dove questa è proprio un'arsenale come il nostro non l'avete mai avuto. Il luogo dove questa flotta veniva realizzata, cioè l'arsenale di Venezia e anche il rapporto molto molto importante con la montagna, perché a me piacerebbe sottolineare questa cosa, che il legname che arrivava, io non so voi dove andavate a rubarlo il legname, noi lo tagliavamo, le Dolomiti soprattutto. Le grandi montagne di Venezia, sì. E veniva portato a Venezia facendolo fluidare lungo i fiumi, soprattutto lungo il Piave, che era il percorso, è tuttora il percorso più breve dalla montagna al mare, sono 200 chilometri e quindi questo legname veniva tagliato e portato poi in un luogo a Perarolo del Cadore, in un grande lago artificiale, dove veniva assemblato un raguseo, fantastico, cioè stiamo ricostruendo il Mediterraneo del Mediterraneo del Rinascimento. L'avevamo detto che questa sarebbe stata la puntata più infuocata, però continuiamo. Il legname dove lo mettevano? Non si è ancora capito. Il legname veniva raccolto in un grande lago artificiale, poi venivano formate delle zattere che fluidavano, scendevano lungo i fiumi e ovviamente come dicevo il più breve era il Piave, ma era un lavoro immane perché all'inizio del 600 scendevano 4000 zattere all'anno, farebbe 11 al giorno, ma siccome non scendevano durante tutto l'anno, ma soltanto nei mesi in cui il fiume era ricco d'acqua, era una continua discesa di zattere lungo il fiume e nel 700 dal Cadore, solo dal Cadore, scendevano 330 mila tronchi all'anno, ecco non dubito che voi foste capaci di fare qualcosa del genere e arrivava l'arsenale, l'arsenale di Venezia era il più importante complesso manifatturiero del mondo preindustriale, non è corretto dire complesso industriale, ma insomma qualcosa che gli assomigliava molto dove venivano assemblate, allestite le galee in poche ore e ai tempi della battaglia di Lepanto per esempio veniva allestita una galea al giorno perché era stata organizzata una specie di diciamo molto tra virgolette catene di montaggio, cioè venivano tenuti gli scafi pronti e poi sotto dei depositi poi questi scafi venivano allestiti portandoli in diversi magazzini ognuno dei quali era specializzato in un determinato genere per cui lo so c'era il magazzino dei cordami, il magazzino delle artiglierie, il magazzino dove si allestivano le varie parti, alla fine si metteva l'albero, si allestiva, si dava alla galea il remaggio e dall'ultima cosa era il biscotto, cioè le provviste e a quel punto la galea era pronta, saliva a bordo l'equipaggio e poteva prendere il mare. Questo aveva fatto sì che, dicevo che nella battaglia di Lepanto, la metà della flotta cristiana fosse costituita da unità veneziane. Hanno combattuto a Lepanto dalla parte cristiana 208 galee, 105 di queste otto galee erano veneziane, più sei galeazze, queste grandi fortezze galleggianti che hanno avuto il compito di scompaginare la flotta ottomana che attaccava, alte sul mare, irte di artiglieria e quindi erano anche sostanzialmente imprendibili. Mentre, e questo bisogna riconoscerlo, le galee ponentine, cioè tirreniche e sostanzialmente anche genovesi erano dal punto di vista tecnico superiori a quelle veneziane, infatti erano più veloci, ma Venezia aveva un grandissimo vantaggio dal punto di vista delle artiglierie. Le artiglierie in bronzo veneziane erano nettamente superiori a quelle degli altri, nell'epoca stiamo parlando appunto della fine del Cinquecento e erano presenti in numero maggiore sulle unità veneziane rispetto alle altre navi ed erano di qualità. I Musarra facevano i cannoni all'epoca, i Musarra. Non ho detto che non ci fossero, ho detto che erano migliori, quelli degli alberghetti evidentemente erano migliori di quelli dei Musarra e gli artiglieri veneziani avevano una mira assolutamente superiore, tanto che parliamo dei Dardanelli, quindi un secolo dopo, ma i francesi erano sorpresi, dicevano che i veneti tiravano con le artiglierie come fossero i Moschetti. Va bene. Posso? Prego, prego. Vedevamo già delle tabelle, dei dati prima. Insolutamente. Allora bisogna parlare di dati concreti. Vero, Venezia aveva un arsenale accentrato, ma Genova mette in piedi nel corso del secolo del Medioevo una sorta di cantiere diffuso. Genova è tutt'uno con la Liguria e qua parliamo di una forza estremamente più importante, superiore rispetto a Venezia. Si può dire che ogni cantiere di ogni piccolo borgo delle riviere Liguri producesse galee e naviglio di vario tipo, tant'è che Genova riesce a mettere in mare, come avevo mostrato in queste tabelle contenute nel fondo, il mio, il grifo e il leone, un numero di galee nettamente o comunque sempre superiore rispetto a quello di Venezia. Quindi è un sistema semplicemente diverso, forse più intelligente, in quanto sono i forze locali e soprattutto Genova ha un faggio rispetto a Venezia. I boschi ce le ha dietro casa, ce le ha immediatamente dietro casa, tant'è che il legname di vario tipo, dalla quercia al faggio agli altiabeti per alberi antenne era direttamente tirato a mare lungo le cosiddette tire che portavano immediatamente in acqua e da qui trasportato nei vari cantieri. Ma Genova ha qualcosa in più rispetto a Venezia, abbiamo parlato di galee, di galeazze, io non parlerei di fortezze, stiamo sempre parlando di navi longe, come dicevano i romani. Genova rispetto a Venezia può mettere in cantiere le grandi navi commerciali. Questo Venezia non lo può fare perché la sua acqua è bassa e le navi di grandi dimensioni si incagliano. Genova che a partire dal Quattrocento comincia ad avere tonnellaggi più importanti, più imponenti, con grandi naves, con velatura mista, che riescono a compiere dei viaggi intercontinentali. Anche le galee veneziane raggiungono le Fiandre, l'Inghilterra, d'accordo, si specializzano in merci sottili, in modo da concentrare il valore. Questo ne parleremo dopo, noi non abbiamo bisogno delle grandi navi. Sono tutti genovesi i grandi trasporti, questo non possiamo negarlo. Non è un caso se è un genovese a compiere la traversata dell'Atlantico, questo ce lo dobbiamo comunque ricordare. Quindi dal punto di vista cantieristico e dal punto di vista della flotta c'è una specializzazione diversa, su questo posso essere d'accordo. Però Genova a un certo punto dimostra di avere un peso tale da essere addirittura scelta dai re, dall'imperatore, dai sovrani di Spagna per fornire il proprio braccio destro alla corona spagnola stessa. E questo è certamente un dato da non sottovalutare. Abbiamo finito il primo round, ma mi sa che su questo non c'è stata molto... No, tra l'altro siamo... Siete scappati. Eccolo. Andrei a Moria. Il genovese è tattico. Il genovese è tattico. Il genovese è tattico. Voleva salvare le navi. Tra l'altro, diciamo, dalla regia mi comunicano anche che siamo in un perfetto pareccio, quindi a riprova che tutto deve ancora essere deciso. E, insomma, nei vostri discorsi, devo dire, molto convincenti, avete iniziato già a, in qualche modo, seminare la discussione sul commercio. E quindi, oltre ad aprire chiaramente la discussione su questo, faccio, insomma, pongo anche una mia personale curiosità da totale inesperta. Leggendo, appunto, proprio le pagine di Marzomagno del volume, no? Su Venezia, il capitolo con Genova, mi ha molto interessato la questione sulla Cina. Cioè, perché, appunto, io magari dagli studi scolastici siamo tutti abituati a collegare direttamente a Marco Polo, al Milione, quindi a Venezia, i viaggi verso la Cina. Però, insomma, Marzomagno dice qualcosa di diverso in questo. Quindi, ecco, in generale il commercio, e poi se potete anche rispondere a questa mia curiosità, ovviamente anche coloro che ci ascoltano possono fare delle domande, possono fare delle domande. Questa volta partiamo da Genova. Beh, allora, questo Marco Polo, cosa dice Marco Polo? Cosa dice Marco Polo? Eh, dice che quando si reca in Cina, trova dei genovesi. I genovesi sono semplicemente più taciturni, sono semplicemente più riservati, conoscono le armi del commercio e sanno che è bene non divulgare eccessivamente segreti e quanto hanno appreso nei loro lunghi viaggi, che sicuramente sono più ampli di quelli dei veneziani, perché si dispiegano letteralmente da un capo all'altro del mondo conosciuto. Abbiamo meno informazioni, su questo non c'è alcun dubbio. E la fortuna del milione, come abbiamo letto dal nostro Giuseppe Lo Sapio, addirittura letto da Cristoforo Colombo, è una fortuna innegabile, ma il milione non sarebbe esistito se i genovesi non avessero recluso il povero Marco nelle proprie prigioni. Magari di questo poi ne parleremo. Però questo è negabile. I genovesi sono presenti da una parte all'altra del mondo conosciuto, sono i primi a inaugurare nel 1277 una rotta regolare, grazie alla figura, questo ammiraglio mercante Benedetto Zaccaria, verso le Fiandre e l'Inghilterra. Significa che ogni anno convogli i genovesi partivano, oltrepassavano le colonne d'Ercole e si recavano a commerciare verso il nord Europa. Non solo, ai genovesi si deve anche la esplorazione delle coste africane, con la scoperta, o riscoperta delle Canarie, basti pensare a Nicoloso D'Arecco o lo stesso Lanzarotto Maluccello. Sono personaggi che vivono al principio del Trecento e l'esplorazione dell'Atlantico continuerà grazie ai genovesi, a qualche sparuto veneziano, ma a personaggi genovesi importanti come Antonio Danoli o altri di questo genere. E non solo, non li troviamo. Oltre le colonne d'Ercole, in Inghilterra, nelle Fiandre, dove ancora oggi si può osservare a Bruges la meravigliosa Sayal, ma li troviamo tutta la penisola iberica, in Marocco, in Tunisi, Antonio Malfante che raggiunge le fonti dell'oro africano e poi in tutto l'Oriente, dove realmente c'è una concorrenza spietata con Venezia che causerà, dal resto, nel corso dell'età medievale, le famose guerre veneto-genovesi. Le prime due nel Duecento concentrate, diciamo, sull'area della Terra Santa e le altre due sviluppatesi invece sulla rotta che portava a Costantinopoli e di lì al Mar Nero. Ricordiamoci che Venezia non possiede una città genovese di fronte al corno d'oro. Pera, la collina di Galata, è interamente genovese, così come è in club importantissime come Caffa nell'attuale Crimea, ma tutta la costa settentrionale del Mar Nero ancora oggi è costellata di insediamenti genovesi, di castelli, di fortezze, a significare un tessuto economico estremamente ricco. Che cosa può dire Venezia di questo? Venezia si ha qualche commercio con queste zone, ma certamente forse più sviluppato verso l'Egitto, possiamo dire, dove peraltro sono presenti anche i genovesi, ma non possiamo dire che abbia una diramazione tale. Certamente c'è una specializzazione, questo l'avemmo già detto prima e lo ribadiamo. I genovesi si specializzano nelle cosiddette merci pesanti. Disare dei merci che occupano tanto spazio, ma che sono alla base delle filiere produttive in moltissimi settori e diventano monopolisti di queste filiere, dall'allume al mastice, vi dicendo. I veneziani trovano sollazzo nel caricare qualche spezia, questo dobbiamo ammetterlo, ma la questione si riduce lì, nel momento in cui arriverà, si apriranno con Colombo, le colonne d'Ercole a tutti gli effetti, saranno fregati dai portoghesi. No, non è vero. Torneranno. Il commercio delle spezie tornerà come era prima. Per dare la parola al veneziano, però appunto, come dire, do un suggerimento che ci viene dai commenti. Giuseppe lo sa, però dice. Il genovese però attraversa l'Atlantico portandosi il libro che narra di un veneziano. E così do la parola, insomma, all'altra parte. Sì, me l'ha detto Antonio, l'ha ammesso che era il libro di Marco Polo. Sì, è postillato, è conservato il libro, il milione, la coppia di Colombo, è conservata a Siviglia, ci sono circa 800 postille. D'altronde Colombo era un credulone, quindi... Credulone? Che vogliamo dire? Allora, credeva, esatto, perché credeva di andare a Oriente attraverso l'Occidente, infatti poi non ha mai capito che aveva scoperto l'America. In realtà, se proprio vogliamo essere rigorosi, se scoprire e capire la scoperta, l'America è stata, come si diceva nel Cinquecento, scoperta da un fiorentino, cioè da Merigo Espucci. Perché lui si è reso conto che stava in America. Colombo no, non ha mai capito fino alla fine. Infatti Colombo non voleva scoprire alcun che, voleva trovare un passaggio alternativo per ripassare il problema turco e dare un'idea per le spezie. Allora, ammetto, perché è una verità incontestabile, quanto detto prima ad Antonio, cioè che la presenza genovese in Oriente e in particolar modo in Cina era superiore a quella veneziana. i genovesi avevano colonie stabili. Cioè è stata anche trovata una lapide di una donna, di una genovese, non mi ricordo. Meglio unissimo. Infatti. Bellissimo quella cosa. Quindi presupponeva l'esistenza di una comunità stabile genovese e il fatto che per i veneziani fosse più raro andare in Cina è anche testimoniato dal soprannome familiare del cataio, cioè della Cina. Perché qualche famiglia che appunto trovava fortuna poi nei commerci con la Cina assumeva questo soprannome del cataio perché era un fatto eccezionale. Ed è vero quello che ha detto Antonio che i genovesi stavano in silenzio, tuttora così, i genovesi mugugnano in silenzio e i veneziani invece che sono più cordiali e alla fine anche più simpatici, diciamocelo, parlavano e quindi ciacolavano e quindi scrivevano e quindi Marco Polo ha scritto questo libro. Ora non so, sì, a posteriori noi possiamo ringraziare il fatto che Marco Polo fosse stato prigioniero. Non so se poi lui fosse tanto contento di essere prigioniero di genovesi. Vabbè, vai solo. Questo bisognava chiederlo a lui. Vero che c'erano specializzazioni diverse. Vero anche che i commerci primordiali, quelli che hanno permesso lo sviluppo di Genova e di Venezia nell'alto medioevo, erano piuttosto simili perché erano sale e schiavi. Cerchiamo di non dimenticarci, cosa che invece spesso viene fatta in maniera, non casualmente, non dimentichiamoci che sia Venezia sia Genova si sono arricchite commerciando schiavi, oltre che sale. Poi questo commercio di carne umana è venuto in termini relativi a pesare sempre meno, anche se in termini assoluti in realtà è rimasto piuttosto alto anche nei secoli successivi, anche nel Cinquecento, senza dubbio. E poi c'è stata questa specializzazione, mentre i genovesi trasportavano pietrame, pietrisco, rocce di vario genere, in queste loro grandi navi, che per noi erano assolutamente inutili, noi portavamo merci sottili, cioè molto più preziose. Le spezie, Venezia a un certo punto era monopolista. Prima della circunnavigazione dell'Africa era monopolista del commercio delle spezie, che erano preziosissime, perché non dobbiamo pensare oggi che si va al supermercato e si trova la cannella. Beh, insomma non era così, la cannella era un bene, la cannella, la noce moscata, erano dei beni preziosissimi e costosissimi, che si mettevano dappertutto, soprattutto perché erano un simbolo sociale, certamente non era una questione di gusto o di sapore dei cibi. Per rimanere nelle spezie, quando il Portogallo rompe il monopolio di Venezia, Venezia nel 1501, quando tornano le prime caravelle portoghesi con Vasco da Gama tornano a Lisbona a cariche di spezie, ma per Venezia è un fatto epocale, cioè il peggio di una guerra persa, uno shock, tanto che pensano di tagliare i canali di Suez, nel 1504 Venezia pensa di tagliare i canali di Suez, poi non lo fanno, ma ovviamente avevano la tecnologia, perché deviavano fiumi che voi non avevate, per cui cosa volevate deviare? Non c'erano fiumi in Liguria. Comunque, non potevano saperlo, ma poi negli anni 20 del 500, in realtà a Venezia si riprende totalmente da questa botta del commercio delle spezie, perché comunque riuscirà ad affiancare il Portogallo, a garantire una qualità delle spezie migliore, e quindi ad avere sostanzialmente a riassorbire questo colpo che le era stato dato. Che rimarrà però ancorata a un'economia di natura commerciale. Genova già pensa alla finanza. Ahimè, devo ammettere che questo è vero. Soprattutto, comunque, diciamo che la potenza finanziaria italiana era Firenze, in ogni caso. E quindi, adesso non so se vogliamo chiamare anche un fiorentino a fare la lista. Potrebbe da discutere anche su questo. E vabbè, insomma, dai. Finisci a rissa. I grandi buchieri erano fiorentini. Comunque, sempre per quanto riguarda le merci preziose, vorrei ricordare che Venezia era il centro di smistamento del metallo monetario prima della scoperta dell'America. Il fontaco dei tedeschi era il luogo dove arrivava dalle miniere europee che si trovavano più o meno tutto in territorio asburgico, arrivava l'argento che poi veniva comprato dalle varie zecche italiane per le coniazioni. Sì, ma Genova ha la prima moneta d'oro, in assoluto, 1252. Poi è il genovino che viene subito in piedi e nel stesso anno, surclassato dal fiorino, perché Firenze conia nello stesso anno con il fiorino, e Venezia conia il ducato nel 1284, che diventerà talmente importante, talmente famoso, quando si chiamerà zecchino, che noi ancora oggi per definire l'oro puro lo chiamiamo oro zecchino dal nome della moneta veneziana. Quindi sì, è vero che i genovesi hanno il primato, è vero però che oggi si dice oro zecchino, non si dice oro genovino. Altra cosa che portavano i veneziani erano le pietre preziose, che arrivavano dall'India, arrivavano dall'Oriente. Buona parte, per esempio, delle pietre, dei gioielli della corona britannica erano passate attraverso Venezia, perché Venezia smistava pietre preziose un po' ovunque, e era tanto importante il commercio delle pietre preziose che il taglio dei diamanti a 58 faccette, cioè il taglio a brillante, viene messo a punto a Venezia all'inizio del 600 da Vincenzo Peruzzi, perché soprattutto nel ghetto veneziano c'erano tagliatori di diamanti un po' come oggi è Anversa, e si erano specializzati questi personaggi nel taglio dei diamanti e inventano il taglio a brillante, proprio perché Venezia era il punto di passaggio delle pietre preziose dall'Oriente verso l'Occidente. Beh, che dire. Non hanno il brillante. No, Genova non ha il brillante, però finanzia e ha nei suoi forzieri tutto l'oro delle Americhe, semplicemente. Come diceva il famoso poeta del 600, l'oro nasce nelle Americhe, muore in Spagna e viene sepolto a Genova. E la civiltà di palazzo del 5-600 lo dimostra. I grandi palazzi genovesi surclassano quelli veneziani in magnificenza, tanto da creare una vera e propria società, la società dei cosiddetti rolli, che dimostra ampliamente che Genova ha una propria storia dell'arte, forse più nota e più sconosciuta, certamente, di quella veneziana, ma altrettanto magnificente e importante. Forse non è un caso che sia più sconosciuta di quella veneziana. Perché i genovesi sono taciturni, sono più... Guardano più all'esterno, guardano più all'esterno, all'italiano veronese. Non mostrano all'esterno, ma basta entrare dentro per rimanere la bocca aperta, come ormai da 10-15 anni a questa parte fanno tutti i turisti che vengono a Genova nel corso delle giornate dei rolli. Ecco, a proposito di entrare, entriamo in questo terzo round sull'arte che penso darà tantissimi spunti, anche io ho qualche curiosità, e anzi invito il pubblico innanzitutto a rivotare, perché entrambi i relatori hanno portato avanti dei discorsi di legenda, direi, a quel ritmo. Era il grido di guerra dell'esercito genovese. State passando a Marzomagno che corrompe il pubblico femminile con i diamanti, qui e anche la... Comunque, quindi, dicevo, invito il pubblico eventualmente anche a fare delle domande. Quindi entriamo nel terzo round, quello insomma, mondo artistico-estetico e diamo questa volta la precedenza a Venezia, che penso è il piano artistico. Lo stesso Marzomagno ha scritto poi, sempre per la terza, l'inventore dei libri Aldo Manuzio, quindi anche in questo il primato ce l'ha a Venezia. Beh, vabbè, lì direi che non si gioca facile. No, 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 tra poco vedrete. Eh sì, adesso salta fuori che la capitale editoriale dell'Europa del Cinquecento non era Venezia, ma era Genova. Dai, dai. Ora ve lo dico. Partiamo prima con Venezia. Ma non è che ho voluto parlare di editoria, perché lì proprio non c'è storia. Dai, vai, parla, poi te lo dico. Allora, dunque, io adesso vi sto parlando da Milano, perché io giro tra Venezia e Milano. Questa mattina sono stato a Bergamo e città che conosco poco, ahimè, e a un certo punto sono entrato nella chiesa di Santo Spirito. Mi credo se è Spirito Santo, Santo Spirito, Santo Spirito, mi sembra. Beh, dentro c'è una formidabile, incredibile dipinto di Lorenzo Lotto del 1521, un quadro meraviglioso, con dei colori stupendi. è davvero, è un quadro che non conoscevo, ma è stato restaurato di recente, quindi ha una luce e dei colori meravigliosi. È del 1521. Beh, questo grande maestro del 500, Lorenzo Lotto, nato a Venezia, poveraccio, alla fine è stato costretto ad andarsene, perché si trovava nella città di Tiziano, di Giorgione, di Tintoretto, di Veronese e quindi, nonostante fosse bravissimo, non riusciva ad esprimersi ed è dovuto emigrare, è dovuto andarsene. Ecco, questo per dire il livello della pittura veneziana del 500. A Venezia, Venezia è la città che diffonde il colore, l'uso dei colori a olio che sono stati portati dalle fiandre, i primi a usare l'olio al posto del tuoro d'uovo per fissare la terra sono stati gli olandesi e Antonello da Messina, che era messinese ovviamente, ma che viene a Venezia negli anni 80 del 400, che dipinge a Venezia, mostra questa nuova tecnica e anche Giovanni Bellini aveva preso questa nuova tecnica dell'utilizzo dell'olio per mescolare le terre e questo rivoluziona completamente la pittura, perché mentre la pittura a tempera si asciuga subito e quindi deve essere immediatamente definita, la pittura a olio ci mette molto ad asciugare e quindi è possibile sfumare, cosa che con la tempera non è possibile. è possibile dare tonalità diverse al colore, quindi per esempio migliorare la qualità degli incarnati e quindi cambia completamente il modo di dipingere e quella che avviene agli inizi del 500 a Venezia è un'autentica rivoluzione del colore che poi influenzerà la pittura di tutta Europa. Beh, insomma, avevo fatto qualche nome di qualche artistuccio del 500, Tiziano, Veronese, Tintoretto, cioè gente che è maestri a Genova, ma neanche se li sognano. Sì, dopo, infatti nel 600 devono chiamare i Fiamminghi, no, Fanai che viene a Genova perché non c'era nessuno di lì che fosse in grado di esprimere questi. Noi non abbiamo dovuto chiamare nessuno, venivano e imparavano, tipo Dürer che viene a Venezia ad apprendere l'arte della pittura e ad esportarla al di là delle Alpi. E dopo però si continua anche perché nel 600, il 600 è un secolo per quanto riguarda la pittura veneziana un po' più oscuro, ma il 700 dopo è il secolo di Tiepolo, il secolo di Guardi, di Canaletto, cioè di grandi maestri che è riconosciuti in tutta Europa, che influenzano tutta l'Europa. E quindi, insomma, non c'è proprio storia. I musei del mondo sono pieni di sale, di arte veneziana, non certo di arte genovese. E poi, anche, se volessimo, potremmo anche parlare della musica, non so, Antonio Vivaldi, per esempio, grande genovese. Però Vivaldi l'ha salvato un genovese. E' vero, è vero, è stato a salvare l'archivio di Vivaldi, è stato il basciatore Durazzo, e questo è assolutamente vero. E poi l'archivio che è giunto alla fila della Biblioteca Nazionale di Torino, dove si conserva tutto. Però, insomma, sì, ma Paganini era un esecutore, non era certo all'altezza di Vivaldi. Allora, posso replicare. Mi limito a poche osservazioni. La prima, Genova è Venezia due secoli e mezzo prima di Venezia, ovvero, nel 200, Genova è la principale esportatrice di libri in tutta Europa. E' una notizia nuova, che è venuta, diciamo, si sta studiando questo fenomeno, diciamo, negli ultimi 10-15 anni, ma che è estremamente interessante. Non solo già nella prima età del mondo, noi abbiamo notizia, c'è un atto notarile degli anni 30, del 200, che mostra come a Genova vi avvenisse una compravendita di oltre 150 libri ebraici. Quindi non solamente libri in latino, appartenenti, diciamo, al mondo cristiano, ma libri in ebraico, tra cui oltre 54 grammatiche. E' una piccola notizia sparuta degli anni 30 del 200. Ma che cosa succede? E' come cosa ci dimostra Marco Polo, che nel momento in cui Genova vince i Pisani e la Meloria, i Pisani stessi, costretti tra le mura genovesi a rimanere in una sorta di semi-libertà, mettono insieme una sorta di atelier, partecipato anche dai genovesi presenti, che sono soprattutto committenti di volumi. Gli ordini mendicanti, dominicani, francescani, le grandi famiglie cittadine, commissionano a questo atelier, chiamato appunto Pisano Genovese, molteplici manoscritti. Addirittura giungono dalla Germania per farsi commissionare a Genova manoscritti di vario tipo. Si va dai manoscritti di natura liturgica sino alle storie dei Santi sino ai grandi manoscritti attraverso i quali noi conosciamo il ciclo bretone, le vicende di Re Artù e tutto quello che attiene a questo mondo eccezionale. Lo stesso Marco Polo trova nelle prigioni genovesi un certo rustichello da Pisa che fa da copista o da interprete del suo racconto. Ecco, questi manoscritti stanno venendo alla luce in questi ultimi anni, si stanno censendo e sono veramente decine e decine sparsi in tutta Europa. Non ci stupiamo di questo. Genova è nel 200 il principale foie trobadorico d'Italia. I poeti occitani e i poeti genovesi che cantano in lingua occitana sono quelli genovesi che sono tra i più importanti e prolifici. Semplicemente questa notizia non è ancora penetrata nei nostri manuali scolastici che si concentrano magari sulla scuola siciliana o su altre cose, ma è anche questa una notizia importante da dare, da divulgare e che sarà sempre più conosciuta perché si stanno effettuando studi anche su questo. Salto avanti di qualche secolo. Nel 1622 un certo Peter Paul Rubens pubblicava il suo Palazzi di Genova frutto di una serie di visite che Rubens stesso aveva fatto alla città come assieme al duca Vincenzo I di Gonzaga e lui entusiasta della civiltà di palazzo genovese di cui parlavo appunto prima ci regala una serie di riproduzioni di vedute di questi palazzi architettonicamente meravigliosi che avrà un exploit incredibile nei decenni successivi influenzando il gusto il gusto che potremmo definire barocco di molta architettura posteriore e soprattutto di architettura romana. Questo link, questo legame nuovamente è una novità che è stata studiata negli ultimi anni soprattutto in riferimento a quel fenomeno di cui parlavo prima i cosiddetti rolli. Che cosa sono i rolli? I rolli sono dei elenchi i ruoli, i ruolini d'equipaggio si diceva una volta degli elenchi in cui i palazzi più magnificenti della città erano iscritti per poter partecipare a una sorta di estrazione pubblica e ospitare così addirittura re, sovrani, papi imperatori principi e tutta la creme d'Europa cioè erano talmente magnificenti al proprio interno oltre che come dice come mostra Rubens meravigliosi dal punto di vista architettonico da poter fungere da poter sostituire la presenza la mancanza se vogliamo così di una vera e propria reggia. Ecco questa società dei rolli che è stata studiata proprio come fenomeno sociale presente anche in altre città ma non in maniera così vistosa caratterizza proprio il 600 genovese caratterizza la grande arte del 600 genovese non è vero che non vi siano grandi artisti tra 5 e 600 basti pensare a Bernardo Strozzi a Domenico Piola a Fiasella e ce ne sono molti altri magari meno noti meno inflazionati ecco dalle mode che ci hanno portato soprattutto a guardare alla pittura veneziana piuttosto che a quella fiorentina ma in piena riscoperta se qualcuno di voi vuole dire qualcosa di nuovo sulla storia dell'arte non deve andare a Venezia deve andare a Genova sì sì beh campo a cavallo la riscoperta cresce c'è un grande interesse del mondo dell'arte sulla Genova di questo periodo è una riscoperta lenta ma che darà i propri frutti nessuno conto hai un paio di generazioni comunque tu mi stai contrapponendo i libri manoscritti ai libri a stampa ovviamente io avevo parlato del fatto che Venezia è indubitabilmente nella prima metà del 500 la capitale dell'editoria a stampa di tutta Europa è la stessa a Venezia si stampava la metà dei libri che si stampavano nell'intera Europa poi scusa ne approfitto guarda qua lampadario di Murano non siete mai stati in grado di fare qualcosa del genere voi a Genova questo lampadario di Murano quando quindi adesso purtroppo a causa della crisi probabilmente chiuderà tutto ma insomma non siete mai stati in grado di fare una cosa del genere ma non c'era l'interesse a farlo questo è diverso però eravamo più bravi noi quindi c'è poco da dire ah vabbè a fare un po' di vetro di piatto hanno anche rubato i francesi chissà che non siano stati aiutati da vecchie genovese ci hanno anche rubato il segreto del fare gli specchi di cristallo con un'operazione di spionaggio a metà seicento degna di James Bond hanno portato dei vetrai muranesi a Parigi poi gli inquisitori di stato hanno ammalato dei killer ad ammazzare i vetrai muranesi che sono tornati a Venezia ma ormai i francesi avevano imparato a fare gli specchi hanno imparato da noi mica da voi eh poi se vogliamo buttarla sulla musica io citavo prima Fabrizio D'Andrea ma è chiaro che c'è una scuola di cantautori genovesi che non mi sembra possa ripetersi a Venezia così come c'è una scuola di grandi comici genovesi non so se avete notato ma ce ne sono moltissimi in giro c'è anche uno che ha fatto provare di sé per vicende non proprio legate al teatro oppure molto teatrali ma insomma insomma il santo patrono di Genova San Giovanni Battista è un tantino più in alto di San Marco no perché San Marco è evangelista San Giovanni Battista non è evangelista sì ma lui è evangelista e il vangelo di San Marco è stato dettato da Pietro quindi capirai San Marco è il vangelo di Marco è il vangelo di Pietro poi all'inizio si parlava anche della squadra di calcio ma non non mi addentrerei in questi argomenti altrimenti a Venezia gioca una calcio riconosco il primo sul fatto che la squadra il Genoa è la più antica squadra italiana non è che in questo momento ci siano molte glorie da una parte o dall'altra una storia gloriosa come c'era la Sampdoria come c'era la Sampdoria no adesso vabbè la Sampdoria no ci inoltriamo in terreni pericolosissimi scivolosissimi allora intanto attendiamo dalla regia l'aggiornamento del della votazione io vi ringrazio perché insomma oltre ad aver imparato tantissime cose nuove mi sono anche molto divertita avevo previsto per chiudere questa puntata di leggere appunto giusto due righe che Marzomagno nel suo libro proprio all'inizio del capitolo su Genova ci regala ma tra i commenti ho trovato un'altra chiusura che secondo me è ancora più bella appunto siamo a pagina 98 di Venezia della Venezia di Marzomagno e c'è scritto se fossero unite non ce ne sarebbe stato per nessuno questa consapevolezza non è dovuta soltanto alla storiografia odierna ma c'era già nel passato a metà 600 il genovese Raffaele della Torre scrive che se gli antichi genovesi avessero esercitato nei confronti dei veneziani emulazione antichennemistà assieme avrebbero potuto ridare all'Italia la potenza perduta dell'impero romano ma è una gestione da Musarra questa è sono le stesse cose che dice Francesco Petrarca la metà del Trecento esatto esatto e quindi infatti sono riportati anche versi di Petrarca però diciamo tra i commenti mi è giunta un'altra suggestione che secondo me è ancora più più carina per chiudere Marco Brando ci dice beh noi genovesi arrivammo fino a Chioggia e vabbè questa la lasciamo stare questo riferimento storico però poi aggiunge dove il mio nonno materno Ligure si innamorò di una chioggiotta e così fecero la pace e quindi bene chiudere con mi ha detto una veneziana insomma bene bene chiudere diciamo con l'amore e sono intanto giunti i risultati della votazione e per 12 a 10 questa volta supera Genova basta Genova il turno la serenissima forse ha un po' troppi nemici non lo so non so è che i veneziani sono distratti non sono qui dovrebbero essere qui a votare stanno andando a fare aperitivo sono le 19 e 46 ah lo spritz altra invenzione veneziana ecco sono già a cena a quest'ora effettivamente anche sull'alcol sarebbe una bella lotta però bene io ringrazio veramente innanzitutto voi è stata veramente una una chiacchierata piacevolissima e tutti coloro che ci stanno seguendo e stanno ancora ringraziando diciamo mi stanno ringraziando ovviamente per questa ora di intrattenimento e di istruzione insieme io diciamo invito il pubblico a seguirci tra due settimane per l'ultimo episodio di Versus quindi si chiude questa prima stagione vediamo di questa rubrica quindi ci vediamo tra due settimane per l'ultimo incontro l'ultimo scontro in realtà e buona serata a tutti e grazie ancora alla prossima grazie grazie rivederci